Buongiorno e prima di tutto, buona festa del papà. Un uomo buono, generoso e gentile. Secondo me sono questi gli aggettivi che definiscono Piero Franchini che purtroppo è scomparso all'età di 78 anni per un malore che lo ha strappato alla sua famiglia e a tutti noi. Con la nostra emittente, della quale era socio ormai da tempo, aveva avviato un progetto editoriale molto bello. C'era una sua trasmissione che si chiama L'edicola di Piero che non si era mai fermata da otto anni a questa parte, neanche durante la pandemia. Qui con me c'è anche il nostro direttore, la Greta Settimelli. Aveva sempre davvero dato tutto affinché questa voce libera rimanesse in città e quindi noi faremo altrettanto nel suo segno. La politica ormai è lontana dalla gente, quindi chi amministra purtroppo non ha più questa responsabilità, non si sente più la responsabilità di dover informare chi vive la strada. Tantissimi anni nel commercio, presidente di Confesercenti, facente parte del consiglio della Camera di Commercio, ma io oggi vorrei proprio ricordare il tratto forse più umano di Piero Franchini, ovvero una persona fortemente appassionata di tutto quello che era l'interesse pubblico, la sua città, le iniziative di solidarietà, tantissime quelle che lui ha sostenuto. Il cuore ci deve essere sempre, perché chiaramente quando il cuore c'è e sei portato a fare un qualcosa di bene, è chiaro che non devi guardare al momento, fai per quello che puoi, però chiaramente ci deve essere sempre un po' di aiuto, perché parecchi nella società ne hanno bisogno. Speriamo di continuare davvero, Piero, nel segno del tuo esempio, ci mancherai tantissimo, ci mancherà questa colonna, così amavi definirti, ma lo sei stato nei fatti e non nelle parole. Alla famiglia, alla figlia Maria Rita, al genero Simone e al piccolo Andrea, ovviamente va il nostro al braccio più forte, certi del fatto che chi ti ha conosciuto ti terrà sempre con sé. Ciao Piero. Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Come avete sentito dalla copertina, oggi è un giorno triste per Arezzo e anche e soprattutto per la nostra redazione. È scomparso ieri per un malore improvviso Piero Franchini. Quelle che avete sentito sono state le parole del nostro direttore che ha scelto per salutarlo, ma i messaggi di cordoglio arrivano da tutta la città. A ricordarlo anche il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che sulla sua pagina Facebook ha scritto Ci siamo incontrati numerose volte nei salotti di Arezzo TV di cui era socio e appassionato opinionista. Persona genuina ed affabile, giungano alla famiglia le più sentite condoianze mie, personali e dell'intera città. E anche il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi e il segretario generale Marco Randellini ricordano con commozione Piero Franchini. Con la sua scomparsa il nostro territorio perde una protagonista della vita economica e associativa a Retina che si è distinto sempre per le particolari capacità imprenditoriali e per la sua profonda umanità e affabilità. Tra le figure professionali che hanno segnato la vita di Piero Franchini sicuramente quella di fotografo, poi ottico ed infine editore, sentiamole nel ricordo di Confesercenti di Davide Faltoni. Lui è nel campo dell'imprenditorial da una vita. È passato come un fulmine in centinaia di eventi che hanno caratterizzato questa città. E noi lo ricordiamo particolarmente perché è stato anche presidente di questa associazione, ha svolto il suo lavoro egreciamente, come sempre fa. Lui era una persona molto alla mano, una persona che si riteneva sempre una persona del popolo, lui diceva così, però metteva a cuore delle cose. Per me è stato un punto di riferimento perché comunque è sempre stato dentro gli organismi, dentro la dirigenza di Confesercenti, anche dopo che non era più presidente provinciale, però è rimasto sempre molto vicino all'associazione e per me, che ormai sono qua dai primi anni 2000, è stata una delle prime persone che ho conosciuto e che mi hanno aiutato anche a capire come fare questo lavoro. Quindi è stato veramente un maestro e veramente un grandissimo punto di riferimento. Sapevi che c'era sempre e che potevi chiamarlo per qualunque consiglio, bisogno, punto di vista. Era anche un punto di vista sempre suo personale, particolare che ti aiutava anche a vedere le cose nel modo giusto. Insomma, quindi è una mancanza enorme che ci ha colto veramente di sorpresa e è veramente con grande dolore ecco che lo ha preso e sono molto vicino alla famiglia perché credo per tutti una perdita sia per i parenti che per gli amici ma insomma veramente per tutta la città oltre che per la nostra associazione aver perso Piero è un momento di dolore grande. Io lo conosco da sempre Piero perché veramente da sempre quando io ho cominciato a crescere sapevo chi era e poi come sai lui ha avuto fiducia in me quindi come professionista come commercialista io l'ho sempre seguito e poi negli ultimi anni questa passione per la televisione lui è sempre stato appassionato di fotografia di tutto quello che era l'immagine insomma è stato un grande fotografo oltre che un grande ottico e quindi quando si è avvicinato alla televisione tramite te, il tuo babbo e poi gli è presa questa passione che oramai dura da oltre dieci anni e poi mi ha convolto anche me e lui a Rezzo TV se l'è sempre sentita su a questo marchio questo gruppo di persone questo come lo sai e obiettivamente ora essere qui nello studio che avevamo che lui aveva tanto voluto e aveva contribuito ad approntare a realizzare ed era orgoglioso perché mi diceva hai visto? ora l'edicola è bella ora l'edicola che belle immagini io sabato ho parlato con lui e abbiamo programmato l'edicola di questa settimana e mi fa male pensare che che non c'è più la camera ardente è aperta da questa mattina alle 10 e 30 all'ospedale San Donato mentre domani i funerali l'ultimo saluto si svolgerà in cattedrale alle 14 e 30 e adesso voltiamo pagina e torniamo a parlare della devastazione avvenuta all'interno di un istituto di Pieve Santo Stefano due studenti allontanati dal convitto della scuola per una serie di violazioni disciplinari sarebbero i responsabili della blitz che ha portato alla distruzione e l'istrumentazione didattica e arredi le indagini sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sansepolcro e sono state schiaccianti le prove che inchiodano i due giovani uno avrebbe pubblicato poi rimosso da social un'immagine dei danneggiamenti e nella disponibilità di uno dei due è stato anche trovato un ammazzo di chiavi della segreteria non solo entrambi riportavano ferite alle mani compatibili con la devastazione dell'elim per tutte e due è scattata la denuncia per danneggiamenti e bene dello Stato e si profila un'inevitabile espulsione dalla scuola e c'è stato invece un brutto incidente ieri per un escursionista che si è ferito in una zona impervia ed è stato soccorso dall'elicottero è successo nel comune di Capolona in località a Busseto dove è intervenuto l'elicottero Drago la centrale operativa del 118 era stata allertata alle 17.50 con la richiesta di intervento di soccorrere l'uomo di 38 anni via terra lo ha raggiunto l'ambulanza di Subbiano ma poi si è reso necessario l'intervento dell'elicottero i soccorritori lo hanno immobilizzato e poi è stato recuperato col verricello una volta a bordo è stato trasferito all'ospedale San Donato in codice 2 e proseguono le indagini dei carabinieri sul furto della vecchia Fiat Panda utilizzata dal parroco di Pozzo della Chiana e poi trovata dopo pochi giorni bruciata ad Alberoro le indagini vanno avanti senza sossa e i militari indagano a 360 gradi fa discutere il caso dell'auto rubata e poi incendiata ad un parroco di Pozzo della Chiana i due fatti sono distanti alcuni giorni l'uno dall'altro l'auto non è di proprietà del parroco ma nonostante questo appunto è una vicenda che scuote questa piccola comunità nella Val di Chiana a Retina erano a portare il nostro parroco di Pozzo l'acqua santa alle famiglie si dice così e la macchina l'hanno lasciata lungo la strada e quando sono riscesi la macchina non c'era più questo è tutto quello che si sa poi chi dice che l'hanno ritrovata che l'hanno incendiata è una cosa un po' strana anomala quello che è successo qui al paese del Pozzo perché che ne siano andati dietro che sapendo che c'erano le chiavi dentro che vedendo il prete che era a dare l'acqua santa rimane un po' dubbiosa questa storia l'opinione pubblica è divisa su una cosa però sono tutti d'accordo Don Didier Beasara parroco di Cesa e Pozzo della Chiana arrivato in questa parrocchia da poco tempo è ben voluto da tutti credo che il parroco non c'entri niente o è uno scherzo o è saprei ecco però succede non c'è da dire nulla bravissimo fa il suo lavoro insomma diciamo poi diciamo che forse è meglio dell'ultimo che c'è stato diciamo così ecco non ne capisco il motivo più che altro ecco e sono alquanto dispiaciuta per il gesto fatto innanzitutto a un parroco che è arrivato da poco doveva essere accolto come di dovere e quindi spero che chi ha fatto questo gesto se ne penta e ponga rimedio ecco al più presto chiedendo scusa spiegando l'auto non è di proprietà del parroco ma di una famiglia di parrocchiani è stata ritrovata poche ore fa nei pressi di Monte San Zavino incendiata sul caso procedono i carabinieri no non me la spiego se è stato uno scherzo di cattivo gusto ma penso che non sia uno scherzo ci spostiamo adesso in Valdarno per parlare della IWV la storica vetreria infatti ha aperto le procedure di liquidazione coatta amministrativa dalla crisi per il caro energia alla liquidazione coatta la storica vetreria del Valdarno la IWV non si è mai ripresa e ora dopo un anno di stop alla produzione va in liquidazione coatta amministrativa all'azienda è appeso il destino di 44 dipendenti e per loro non c'è l'ammortizzatore della cassa integrazione l'avvertenza è adesso sul tavolo di Valerio Fabiani il consigliere per il lavoro del presidente della regione toscana Eugenio Gianni specifico per le crisi aziendali sarà nominato un commissario incaricato di capire se ci siano o meno spiragli prima della chiusura definitiva i forni erano stati spenti per la prima volta un anno fa il 15 febbraio poi erano stati riaccesi a metà giugno a novembre del 2022 un nuovo stop a causa del caro bollette diventato insostenibile a dare l'annuncio della liquidazione coatta l'alternativa per le società cooperative al fallimento era stata in consiglio comunale la sindaca di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi potrebbe essere davvero la parola fine di una storia che dura da 70 anni dal 1952 per i 44 dipendenti solo alcuni di loro potrebbero andare in prepensionamento le nubi all'orizzonte sono sempre più fitte al pronto soccorso della San Donato di Arezzo sono presenti tre bad manager per evitare che i pazienti rimangano in attesa del ripovero in pronto soccorso sono tre donne e tre infermiere che cercano i posti letto nei vari reparti per collocare il paziente non affetto di emergenza sanitaria arrivata al pronto soccorso ci spostiamo adesso in Valtiberina dove è arrivata un'innovativa palestra dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro si tratta di una struttura alle porte di Sansepolcro il progetto è dell'azienda Smart Vita che ha inaugurato il centro in lavaguardia strutturato per promuovere una formazione teorica e pratica orientata alla salvaguardia dei lavoratori nelle postazioni di lavoro a rischio caduta dall'alto ai spazi confinati questa palestra è sviluppata su oltre 200 metri quadrati e quasi 9 metri di altezza dove è stato ricreato un ambiente unico nel suo genere Cambiamo argomento per parlare di un incontro per ricordare le opere e l'esempio di Don Lorenzo Milani a 100 anni dalla nascita venerdì 24 marzo alle 17.30 presso la sala di giustizia della Curia Vescovile la presentazione del libro Don Milani una vita di una profeta disobbediente che fornirà un'occasione per tornare a tracciare il ritratto di un prete scomodo attraverso una raccolta di lettere scritte e testimonianze l'appuntamento organizzato dalle ACLIS sarà aperto dai saluti del Vescovo Miglia Vacca e arricchito da una riflessione di Rosi Bindi passiamo adesso alla pagina della cultura prosegue ad Arezzo l'incontro della generazione Z con il teatro e scena al Virginian salto di specie vabbè ma in più le spoglie uno va ma io si deve spogliare per forza vincolo guarda che è una questione di diritto prosegue ad Arezzo l'incontro della generazione Z con il teatro sul palco del teatro Pietro Aretino di via bicchieraia lo spettacolo salto di specie proposto dalla compagnia controcanto collettivo salto di specie è un'indagine sul tema dell'empatia tra esseri viventi e sui meccanismi che ne favoriscono e ne arrestano il flusso si parla di comunicazione tra esseri viventi quindi tra esseri umani e non umani in questo spettacolo si parla della possibilità di allargare il cerchio della nostra compassione il tentativo non solo con questo lavoro quanto in generale con i lavori che facciamo è quello di provare a proprio mettere una lente di ingrandimento su un tema che secondo noi è un nodo o cruciale o anche solo interessante cioè che ci interessa della nostra società quindi se qualcuno alla fine del lavoro dice ah ok a questa cosa ci ripenso è già quello come dire è già un successo quindi non vogliamo far comprendere magari anche solo pensare un po' a quello che abbiamo detto all'Arezzo fiera e congressi invece questo fine settimana è tornato all'appuntamento con Passioni in Fiera dal food and drink al benessere dal giardinaggio agli animali dallo sport all'artigianato all'Arezzo fiera e congressi è così tornato Passioni in Fiera una manifestazione matriosca che ha portato in città ben 10 fiere in una sola location nel padiglione principale una vera e propria fattoria in città siamo qui nella fiera Passioni in Fiera per cercare di dare allegria anche ai più piccoli ai bambini facendoli conoscere anche delle razze di galline particolari tutte razze ornamentali abbiamo l'olandese dal ciuffo la moroseta quindi tutte razze ornamentali particolari che non troviamo nelle nostre campagne ma solo con allevatori amatoriali possiamo portare avanti queste razze e tutelarle All'Arezzo fiere congressi spazio anche alla fiera del disco e del fumettusato e da collezione 160 banchine padiglioni di via Spallanzani siamo state due entità da coesistere tranquillamente anzi ci siamo date una mano non l'altra potrebbe diventare una mini lucca l'idea è già di poter fare io non ero tanto d'accordo però tutti mi stanno chiedendo di rifarla magari d'ottobre e inserendoci anche la festa della birra e chissà protagonista della seconda giornata Tex con lo storico disegnatore Fabio Civitelli la città è piena di talenti noi ci conoscono in tutto il mondo come la scuola retina io sono estremamente fiero di questo e degli autori sono diventati autori internazionali come Marco Santucci Maria Laura Sanapo in più anche noi con Link Tex pubblichiamo in Europa e in Sud America quindi un po' ci conoscono nel mondo ecco due appuntamenti benefici in programma nel prossimo fine settimana sabato 25 marzo alle 20 in via Sasso Verde si terrà una cena di beneficenza per raccogliere fondi per finanziare il nuovo progetto della fondazione Casa Tevenin il mercatino circolare che è un punto vendita gestito dalle ospiti maggiorenni dell'istituzione in modo che la conduzione di un'attività commerciale serva loro come possibilità di formazione per l'inserimento nella società e sempre sabato invece nella sala d'armi Enzo Piccoletti la cena del Calcit porta a Sant'Andrea per sostenere il progetto Scudo e divulgare la storia del quartiere durante la serata infatti il presidente del Calcit Sassoli i medici e gli operatori sanitari del distretto Aretino presenteranno il prezioso servizio Scudo al termine della cena poi una visita guidata all'interno del museo storico passiamo alla pagina dello sport alla calcio le Amaranto tornano a mani vuote dalla trasferta Ligure tornano a mani vuote le Amaranto dalla trasferta Ligure l'Arezzo calcio femminile perde 2-1 in casa del Genoa vanificando la possibilità di conquistare il terzo risultato utile e consecutivo dopo il pareggio a Cesena e la vittoria con la Puglia Trani le Liguri sbloccano il punteggio già al settimo grazie al gol di Bargi Zazzera prova a rispondere con una conclusione al volo che termina sopra la traversa nel secondo tempo Razzolini prima centra all'incrocio dei pali poi impegna Macera su assist di Cortesi attorno all'ora di gioco Bassano raccoglie un rimpallo in aria dal dischetto non sbaglia per il pareggio delle Amaranto ma al settantasettesimo gran gol di Bettaldi che dal vertice dell'aria a destra fa partire un gran tiro che si insacca sul secondo palo il Genoa porta così a casa l'intera posta in palio male per le ragazze che l'ho vista dispiaciuto è male per tutti perché comunque si accadevano che oggi almeno il palio ha risultato giusto sicuramente il pareggio quello che l'Arezza ha dimostrato per i 90 minuti credo che non ci siamo a dire ma poi rimangono sempre gli stessi commenti non rimane di essere scontato quindi abbiamo perso cercheremo di analizzare dove possiamo migliorare e continueremo a lavorare come sempre abbiamo fatto come tutte le settimane come in questi mesi ci sono rimaste nuove partite dobbiamo cercare di fare più punti possibili cercare di portare a casa i risultati più importanti in tutti i campi in casa e fuori cercando di continuare a proporre prestazioni come quelle di oggi sperando che poi allunga la prestazione e porti anche il risultato sono contenta perché il lavoro paga sempre cerco di mettermi a disposizione della squadra quando ho l'opportunità l'ho fatto lo sto facendo oggi è andata e abbiamo perso ovviamente il risultato positivo della scorsa volta non ci ha portato non ha cambiato la situazione ma questo lo sapevamo e adesso ci saranno degli scontri diretti dove dovremo per forza portare a casa tre punti e salvarci vittoria invece per la primavera dell'Arezzo Calcio femminile che nella quindicesima giornata battuto 5 a 0 la Ternana le ragazze Amaranta adesso vedono sempre più vicine alla vittoria del campionato e la promozione in primavera 1 vittoria straripante per le under 17 che battono 13 a 0 l'Academy Livorno le under 15 invece si impongono 3 a 0 sul San Marino Academy e agganciano il Parma al secondo posto in classifica quota 12 sconfitta di misura infine per le under 12 sul campo dell'Olmeponte e una vittoria anche per la scuola basket a Rezzo che si è giudicata lo scontro diretto contro l'Ajana l'Amer scuola basket vince lo scontro diretto contro l'Endi Asfalti a Iana al termine di una gara fortemente voluta dagli Amaranto che hanno messo in campo tanta determinazione la SBA parte con un 6 a 0 a favore poi anche gli ospiti entrano in ritmo ed il primo quarto vede un bel botta risposta tra entrambi per il 19 a 17 della prima sirena nel secondo quarto i ritmi e le percentuali calano notevolmente negli spogliatoi sul 29 a 26 nel terzo quarto l'Amen ha il merito di prendere più fiducia e conquistarsi qualche lunghezza di vantaggio fino a un massimo di 12 punti due canestri in fila di Nesi accorciano le distanze al trentesimo con la SBA in vantaggio di soli 5 punti ad inizio dell'ultimo quarto la partita si infiamma ai canestri Amaranto rispondono Tomei e Nieri che tengono Isshia e Iana a questo punto sale in cattedra Rossi che con i suoi arresti e tiro mette in difficoltà la difesa avversaria gli ospiti hanno un sussulto con Tomei che segna 5 punti consecutivi e 5 punti dalla fine sono canestri però che scuotono l'Amen che reagisce con orgoglio con una tripla di Capitan Castelli e un'altra penetrazione di Toia in difesa la SBA riesce ad arginare gli avversari così sono 5 punti di Pelucchi ad indirizzare il match a favore di Arezzo 73 a 64 i ragazzi di coach evangelisti gestiscono con l'attenzione i minuti finali e si tengono stretta una vittoria pesante molto importante per la classifica Maranto il finale 78 a 66 premia un'ottima prestazione di squadra con questo risultato l'Amen raggiunge quota 30 punti in classifica e si lancia con il morale alto nella settimana che precede la trasferta sul campo della capolista Prato in programma domenica prossima avevo detto a loro un mese fa che se facevamo un salto di qualità in difesa potevamo toglierci delle soddisfazioni perché comunque in attacco riuscivamo sempre a creare grandi tiri aperti e grandi soluzioni ci mancava un po' la difesa nelle ultime due partite abbiamo subito 63 punti di media quindi penso che abbiamo capito dove vogliamo arrivare ognuno di loro ha fatto alla stragrandissima il loro compito testa alle prossime da ora in poi si apre un mondo insomma importante per noi Passiamo al nuoto sesto posto per la chimera nuoto al campionato regionale a squadre esordienti B la manifestazione ha impegnato 16 giovani nuotatori nati tra il 2012 e il 2014 che a Massarosa si sono confrontati con coetanei di 23 squadre da tutta la Toscana e hanno ottenuto un positivo posizionamento nella classifica generale frutto dei risultati colti nelle singole specialità nel frattempo la società Retina ha festeggiato anche un terzo posto nella seconda prova del campionato regionale di nuoto sincronizzato a Firenze questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci su attiqui Grazie a tutti